Il tema della crisi è diventato un tema di pressante attualità, si è fatto un ragionamento che ha al centro il tema della competitività industriale europea e in questo tema di competitività che abbiamo perso nel corso degli anni e decenni, soprattutto verso Stati Uniti e Cina, il tema dell'industria automobilistica è evidentemente uno dei più critici, i dati di mercato oggi testimoniano questo e c'è bisogno di superare l'approccio ideologico che abbiamo vissuto negli scorsi cinque anni di una transizione green impostata esclusivamente su un'unica tecnologia, quella dell'elettrico, riaprire alla neutralità tecnologica, consentire l'utilizzo dei carburanti alternativi. In partenza noi vogliamo anticipare la clausola di revisione del regolamento sulla riduzione 2012 al 2035 e all'inizio del 2025 in modo da affrontare da subito il tema delle multe nei confronti dei costruttori che non si adeguano a quel regolamento e poi da lì cominciare a riaprire tutta la partita che riguarda appunto la neutralità tecnologica e gli obiettivi più di medio e lungo periodo. Sicuramente andava dato un segnale, credo anche forse tardivo per certi versi perché insomma il tema dell'invasione del mercato europeo di auto cinese a basso costo era un tema già presente da diversi mesi, l'Europa è sempre un po' lenta nella reazione a propria difesa, certamente non può essere la soluzione ultima, credo che la soluzione sia necessariamente una soluzione negoziale ma soprattutto la soluzione dal punto di vista europeo deve essere un rilancio della nostra competitività industriale anche nel settore dell'automotive, dobbiamo avere chiare quelle che devono essere le strategie, dobbiamo fare scelte in termini tecnologici che vanno a sostenere filiere europee, dobbiamo tutelare le nostre filiere esistenti, motivo per cui noi insistiamo moltissimo per esempio sul tema dei biocarburanti che vuol dire per l'Italia una filiera legata al metano sostanzialmente che è da sempre una filiera tra l'altro ricca anche di indotto, di posti di lavoro che vogliamo preservare e un approccio che sia forte e che ci mantenga anche collegati con il mercato americano dove sappiamo l'elettrico ha anche una ulteriore difficoltà di penetrazione, ecco dobbiamo fare in modo che la transizione ecologica che tutti vogliamo perseguire la riduzione delle emissioni che non è certamente un obiettivo nobile a cui pure già l'industria contribuisce e venga fatta attraverso il rispetto di questi principi, neutralità tecnologica, solidarietà europea, cioè autonomia strategica, difesa e sostegno delle filiere industriali europee, questa è la cosa più importante altrimenti il rischio di avere una ulteriore perdita di indipendenza economica, di aumentare le nostre dipendenze strategiche, di danneggiare in maniera irreparabile il nostro tessuto industriale, di perdere decine di migliaia di posti di lavoro e quindi complessivamente di recare un danno irreparabile alla società europea. Certamente dobbiamo intanto difendere quello che c'è ancora nella nostra industria, dobbiamo difendere questo tessuto straordinario di piccole e medie imprese nella componentistica che oggi rifornisce gran parte dei grandi costruttori europei e non solo, che è fortemente a rischio nel momento in cui si decreta la fine per norme europee del motore endotermico, è un motivo per cui non dobbiamo decretarla e poi naturalmente siamo un po' tutti provati da questa lunga stagione di incentivi molto generosi nei confronti del principale storico costruttore italiano a fronte di strategie industriali che portavano sempre di più la produzione fuori dall'Italia. Mi pare che ci sia una riflessione interna anche al gruppo Stellantis in corso, vedremo che cosa ne nascerà, penso che però un atteggiamento anche di queste ultime settimane non deponga molto a favore dell'azienda e penso che abbia fatto bene il governo, devo dire il Parlamento tutto perché poi c'è stato un atteggiamento, devo dire, complessivamente bipartisan su questo a dire che insomma il tempo del privatizzare gli utili, socializzare le perdite è finito e che si può continuare con una logica di incentivi a fronte di un impegno serio affinché le produzioni stiano in Italia, che venga continuata una tradizione pluridecennale di meridio in Italia automobilistico italiano che invece rischiamo di perdere definitivamente.